Musica Musica La seconda parte della nostra trasmissione Link è dedicata alla manifestazione quinto quarto ma anche ad altre iniziative che ruotano intorno ad essa e allora abbiamo uno studio più affollato rispetto alla prima parte andiamo a salutare i nostri ospiti per dovere di cavalleria iniziamo dalle dirigenti dei tre circoli didattici di Gubbio grazie per essere con noi Francesca Volpi primo circolo Francesca Pinna secondo circolo e Francesca Lunni terzo circolo questo per parlare di aspetti legati al corretto stile di vita dall'ottica di chi tutti i giorni ha contatto con i più piccoli perché? Perché il tema di questa seconda parte è il lupo ammanzito una metafora di cui ci siamo già occupati in particolare in occasione dell'Obesity Day e che abbiamo trattato in particolare con un altro dei nostri ospiti che salutiamo il dottor Guido Monacelli che ritroviamo nei nostri studi nutrizionista e responsabile del CESNU il centro salute e nutrizione umana e salutiamo Samuele Tognaccioli responsabile regionale di FIDA la federazione dei dettaglianti alimentari di Confcommercio col quale parleremo di specifiche iniziative proprio legate a quinto quarto torna il lupo ammanzito dottor Monacelli ne abbiamo già parlato in occasione dell'Obesity Day il lupo ammanzito tornerà anche per quinto quarto si parla di carni si parla di lupo l'abbinamento viene naturale ma sarà un lupo didattico se vogliamo esatto il lupo ammanzito è la metafora che stiamo utilizzando è un lupo che è diventato mediterraneo per così dire da puramente carnivoro dopo l'ammanzimento diventa onnivoro e quindi mette in gioco uno dei temi dell'alimentazione infantile il rapporto ad esempio con il consumo di verdure per cui ci darà dei consigli che poi approfondiremo in seguito e questo è anche l'inizio per cui ringrazio le direttrici dei circoli di un percorso che diciamo ci porta nella direzione dell'obesità infantile se i dati come sembra ormai stabili italiani e quegli umbri sono allineati abbiamo i bambini più obesi d'Europa ora i bambini di Gubbio sono diversi punto interrogativo andremo a scoprire questo dato forse partendo da un elemento interessante sappiamo già, l'abbiamo detto che nella fascia di età 20-40 anni le mamme di questi bambini hanno un peso corporeo un rapporto tra peso e altezza biemai ottimale i papà sono in questa direzione e quindi è probabile, possibile che le giovani coppie abbiano dei figli con dei corretti stili di vita che si traducono in un peso corporeo ottimale e questo dovremmo verificarlo e ovviamente le iniziative di carattere di sensibilizzazione più che di educazione in sé sono sempre importanti tra poco ne parleremo così come parleremo dei laboratori operativi che si svolgeranno in occasione proprio di quinto quarto in questo fine settimana ma intanto la testimonianza delle responsabili dei circoli didattici è importante per capire come vivono quotidianamente questa tematica da responsabili ovviamente del principale contenitore educativo permettetemi di definirlo così ma soprattutto i bambini come vivono questa tematica iniziamo da Francesca Volpi il problema, se è un problema se lo vedete come un problema dell'alimentazione dei più piccoli anche a scuola è ovvio la scuola non può tra virgolette impartire lezioni forse però può come dire indicare qualche strada beh la scuola diciamo agisce sicuramente su questo tema la maggior parte dei nostri bambini i bambini del tempo pieno nella scuola di infanzia tutti i giorni ma i bambini poi delle altre classi della scuola primaria almeno una volta a settimana si avvicinano chiaramente a quella che è la mensa sappiamo bene che il menù per esempio delle menze è appunto gestito elaborato dal comune con l'ASL con una commissione apposita che calibra diciamo i pasti le tipologie di cibi offerti dietro questo chiaramente l'andare a mensa per noi non è portare i bambini in un ristorante ma c'è dietro una riflessione che tra l'altro viene portata avanti anche con specifiche iniziative all'interno del nostro ma anche degli altri circoli proprio per insegnare e dare ai bambini un'educazione più ampia che passi dal semplice atto del mangiare al mangiare come un atto consapevole quindi un'educazione alimentare certamente Francesca Pinna secondo circolo ci sono diciamo delle comunque si può fare qualcosa in più da un punto di vista operativo o obiettivamente chi ha la responsabilità dei circoli dal punto di vista proprio dell'organizzazione ad esempio dell'attività motoria ha un po' le mani legate le mani sono legatissime da un punto di vista formale istituzionale sarebbero davvero molto legate nel senso che le ore a disposizione per l'attività motoria secondo una strutturazione di orario che non è decisa dalle scuole è blindata blindata del tutto insignificante rispetto a bisogni non solo da un punto di vista del piano della salute ma anche dal punto di vista proprio delle espressioni legittime doverose che i bambini di una certa età anche fisicamente devono poter compiere e su questo siamo a dei livelli lontanissimi rispetto a quelle che invece sono le attestazioni di molti altri paesi europei questo aggravato pesantemente anche dalle situazioni di logistica che non aiutano di certo la possibilità del movimento le scuole compensano tutte come possono attraverso l'introduzione di alcuni laboratori che pur magari non essendo strettamente di avviamento alla motricità ma anche perché tutti i circoli più o meno comunque organizzano in sinergia con le varie associazioni sportive questi tipi di laboratori ma anche i laboratori teatrali o qualcosa di paragonabile comunque consentono di circolare i spazi che sono un pochino superiori rispetto a quelli angusti dell'aula è evidente che i bambini hanno anche gli adulti ma i bambini in modo particolare hanno grande necessità di movimento la scuola sotto questo punto di vista è del tutto inadeguata forse in questo senso le iniziative di cui parliamo rappresentano comunque quei momenti di rottura lo chiedo a Francesca Lunni quantomeno per informare per rendere appunto consapevoli i bambini che si può certamente utilizzare in questo caso l'alimentazione come un modo di crescere sani e magari avere sollecitazioni rispetto a una vita meno sedentaria perché l'altro problema appunto è questo ma credo che innanzitutto l'iniziativa di cui parliamo abbia una valenza affettiva per i bambini perché escono dall'aula e fanno qualcosa di inconsueto inoltre tutti già di per sé questo è accattivato esatto li spinge a ricordare come positiva un'esperienza che faranno in cui gli verrà parlato dell'importanza di un'alimentazione che comprenda anche le verdure le verdure sono difficili da introdurre nell'alimentazione dei bambini spesso sono rifiutate perché hanno dei sapori a cui non sono abituati o che non ritengono gradevoli oltretutto questa iniziativa ha la particolarità che tutti i nostri bambini raggiungeranno la chiesa del lupo ammanzito dove vedranno la tomba del lupo ammanzito a piedi per cui questo è un altro stimolo che andrà a far capire loro che non tutto deve essere fatto con un tempo contingentato i tempi possono essere lunghi si possono anche sfruttare girando a piedi e gli verrà parlato dell'importanza di un'alimentazione che abbia al suo interno pur conservando tratti di gusto buoni delle verdure o delle caratteristiche nutrizionali più corrette certo tra poco entreremo nel dettaglio proprio di questo programma perché appunto Francesca Luni ci ha anticipato parlando appunto di uno di questi momenti che tra l'altro ci riportano proprio all'Obesity Day io volevo sollecitare anche Samuele Tognaccioli perché la FIDA ovvero la federazione dei dettaglianti dei alimentari sarà protagonista in occasione di quinto quarto con dei laboratori nelle sale degli arconi se non va del lato vogliamo anticipare qualcosa anche per invitare insomma i più piccoli e i loro genitori a partecipare assolutamente sì noi come federazione proprio siamo impegnati e ci sentiamo la responsabilità anche noi perché dietro un banco alimentare in certo senso non vogliamo essere soltanto i porgitori di merce ma anche consulenti della qualità facendo spiegare che i prodotti non sono tutti uguali e oggi si possono consumare di piatti in maniera diversa sia partendo dalla materia prima ma anche in modo diverso perché con i bambini abbiamo fatto anche come federazione il gioco in cucina cioè cercare di innanzitutto la prima missione è cercare di far assaggiare questi prodotti perché il problema è far assaggiare io spesso stando dietro al banco sento le mamme i bambini che sono abituati a mangiare sempre le stesse cose voi per abitudine e l'abitudine ti porta imparato a non conoscere altre situazioni cioè i peperoni spesso non vengono consumati magari perché non sono stati abituati certo bisogna perdere tempo in cucina bisogna che la massaia così la signora Maria fra virgolette ci impieghi del tempo e non è perso ma significa insegnare i propri bambini a consumare altri prodotti l'abbiamo fatto in altre città dell'Umbria i primi d'Italia qui proponiamo nell'occasione del quinto quarto i secondi d'Italia quindi per noi è un evento importante quindi premesso anche che come piccoli noi parliamo di federazione italiana dettagliante alimentazione siamo il piccolo alimentarista cioè il negozio sotto casa la porta accanto la porta accanto colui che veramente ci mette la faccia colui che gli puoi chiedere una ricetta colui che gli puoi chiedere come faccio questo piatto piuttosto che altro colui che dà consigli in cucina quindi questa responsabilità ce la sentiamo un pochino tutti i giorni con l'evento delle secondi d'Italia quindi appunto parlando di carne parliamo come secondo è chiaro che con la carne possiamo fare da un primo piuttosto che un ragù ma in questo caso il quinto quarto sarebbe in maniera pratica poi dopo chi meglio di me specificherà proprietà i meno nobili del vitello in questo caso parliamo del IGP di vitellone di carne jianina quindi che magari la lingua la trippa il fegato vengono meno usati che una volta se non consumarevi la bistecca o il filetto la carne è tenerissima e questo mi permette di dire il problema anche della masticazione i bambini vogliono soltanto roba morbida mangiano il pane morbido piuttosto che la crosta o solo la mollica cioè io vedo questo e io ho un figlio in casa sette anni e spesso dico insisto puoi non mangiarlo ma pretendo che l'assaggi e oggi mio figlio mangia la crozza la porchetta piuttosto che la finocchiona o perché magari meno però è l'abitudine il mazzafegato magari in questo caso magari un senso di appartenenza però la coppa di te cioè cercare di far assaggiare i prodotti poi dopo loro scelgono come noi tutti quanti scegliamo il nostro menù tra poco approfondiremo anche di che cosa come funzioneranno questi laboratori volevo però ecco dare un pochino l'architettura di questa giornata o meglio di questa tre giorni che sarà dedicata al lupo ammanzito come funzionerà quali saranno gli appuntamenti principali perché abbiamo parlato già di una passeggiata della salute che ci riporta all'obesity day più o meno in quel caso era un po' più alta l'età dei destinatari scuole superiori sì stiamo diciamo creando delle iniziative che concretizzino dei corretti stili di vita quindi giustamente iniziamo con la passeggiata quindi lo spostamento il trasferimento dalle scuole alla chiesetta del lupo ammanzito che è la chiesetta dei muratori naturalmente di San Francesco della Pace sarà uno spostamento a piedi quindi avremo queste tra virgolette tre ondate progressive dei bambini dei tre circoli classe dopo classe organizzativamente perché potranno scendere nella grotta del lupo quindi ci sarà una spiegazione anche culturale e poi alternandosi parleremo di queste polpette che però non vorrei commentare oggi per lasciare una piccola suspense per così dire che cosa ci dice il lupo che indicazioni abbiamo avuto sono polpette particolari sono polpette particolari che completano la giornata dal punto di vista alimentare e poi tutti gli altri laboratori che appunto verranno organizzati nell'ambito da quinto o quarto sarà un invito i bambini poi potranno manipolare il cibo a partire dal pomeriggio e ci saranno delle sessioni specifiche fino a domenica certo una seconda carrellata con le responsabili dei circoli didattici anche per capire che tipo di riscontri di feedback si dice in gergo arrivano anche dai genitori perché poi la testimonianza ad esempio di Toniaccioli è quella che a casa se c'è il papà che insiste o la mamma che insiste magari si va su un binario giusto altrimenti no voi avete che tipo di così polso avete nella situazione ma diciamo che in genere vedendo un po' quello che mangiano i bambini in generale il momento più critico sicuramente è quello della cosiddetta merenda di metà mattinata che chiaramente è gestita direttamente dalle famiglie quindi da lì noi vediamo osservando non abbiamo dati statistici chiaramente precisi una difformità di comportamenti abbiamo da bambini che si portano una ciotola di cereali piuttosto che uno yogurt a bambini che portano un bel pezzo di pizza piuttosto che la pasta quindi la pasta con la panna intendevo quello quindi lì abbiamo una difformità abbastanza notevole che significa che le famiglie scelgono in maniera diversa quanto consapevole non saprei dirlo per quanto riguarda invece la mensa lo dicevo prima è più strutturata però anche lì a volte ci sono dei rilievi che vengono fatti dei genitori sul tipo sugli abbinamenti di cibo che viene dato non a caso c'è un comitato mensa poi ci sono dei rappresentanti che interagiscono poi col comune che dovrebbe aggiustare le cose poi correggere il tiro diciamo correggere il tiro in corsa c'è anche un aspetto psicologico se vogliamo tra i bambini si guardano un po' si confrontano anche le merende non solo i diari gli astucci e va a finire che paradossalmente magari chi chi segue la più retta via rischi di essere marginato questo è anche in mensa che paradossalmente succede se c'è il bambino e a volte capita che ha il menù in bianco gli altri bambini a volte lo guardano quasi gelosi del fatto che loro non possono usufruire spesso avviene questo discorso del cibo soprattutto quello della merenda che è il momento di pausa per loro perché diciamolo anche com'è è il momento dello stacco rispetto alla routine anche pesante della mattinata per loro è la necessità di concentrare tanti desideri tutti insieme quindi è evidente che il pacchetto di patatine con le statè ragionevolmente è l'incarnazione del desiderio su questo nessuno credo possa discutere è evidente che l'obiettivo dovrebbe essere quello di andare verso invece una uniformità non è ovviamente un obbligo che noi possiamo imporre alle famiglie si tratta di fare una costruzione anche di lungo respiro per cui si ragioni tra una serie di opzioni che è la stessa cosa che dicevano prima loro poi ti do delle possibilità di scelta poi il gusto è gusto ci mancherebbe però ecco ragionevolmente è opportuno che questi bambini imparino a gestire davvero anche i loro gusti non solo alimentari ma sotto tanti punti di vista perché poi le sollecitazioni sono sempre unidirezionali e se raccolgono quelle è normale insomma in un bambino Francesca Luni potrebbe comunque essere questa anche un'occasione per iniziare magari una serie di appuntamenti un po' più ciclici che aiutino quantomeno a riflettere i più piccoli perché poi se è vero c'è lo stacco della routine ma se questo stacco avviene un po' più spesso magari il messaggio filtra un po' meglio questo senz'altro penso da parte dei circoli ci sia disponibilità assolutamente sì perché ci sono dei messaggi che devono entrare come messaggi significativi devo dire però che bisogna lavorare anche con la routine di tutti i giorni quest'anno nel nostro circolo noi abbiamo iniziato a lavorare con i bambini della scuola dell'infanzia a cui abbiamo non imposto ma consigliato di portare a merenda ma significa le nove e mezza quindi colazione determinati cibi piuttosto che altri tipo ci fanno esempio tipo torte fatte in casa o pane e marmellata oppure frutta oppure yogurt cercando di togliere appunto estate patatine io ho visto mangiare fonzis ho visto bere coca cola a bambini dai 3 ai 5 anni e devo dire che la risposta delle famiglie è stata molto positiva anche perché in molti casi era motivo di conflitto tra genitori e figli che cosa far portare per questa occasione mentre se la scuola dà un'indicazione tutti i bambini hanno la stessa cosa o quasi tutti i bambini hanno la stessa cosa a merenda e quindi non c'è più il discorso di emulazione o confronto o appunto invidia tra virgolette questa differenzazione che può essere anche penalizzante per chi si comporta meglio quindi speriamo di riuscire a passare questa buona pratica anche ai bambini più grandi piano piano tanto raccogliamo questa come dire sollecitazione cioè il fatto magari di poter organizzare questo dipende anche dai vari soggetti coinvolti ricordiamo la sinergia della comune ASL anche la chiesa gubina le associazioni no profit magari a organizzare occasioni più frequenti al di là del quinto quarto per tanto camminare e poi parlare di questi temi esatto il progetto in fondo ha tante ciclicità nel corso dell'anno lei citava la chiesa non casualmente abbiamo anche degli elementi etici e anzi vorrei cogliere questa possibilità stiamo conducendo un iniziale progetto con le scuole medie superiori unendo gli aspetti etici e gli aspetti scientifici ad esempio i ragazzi hanno aderito delle scuole medie superiori in un istituto in particolare all'acqua dei cioè una raccolta di fondi le famose mucche incomodato d'uso per mandare in Africa rinunciando alla famosa bevanda zuccherata che abbiamo più volte citato oggi quell'euro viene investito in beneficenza quindi uniamo un sano stile di vita alla solidarietà e quindi ricolleghiamo i percorsi con Samuele Torniaccioli togliamoci questa curiosità come funzioneranno questi laboratori sì ricordiamo dove quando bene allora noi facciamo queste sessioni e noi ci mettiamo in discussione come alimentaristi ci mettiamo dietro a una cattedra insomma che è un ruolo che ci compete un po' meno però è anche giusto metterci la faccia premesso che quando noi abbiamo fatto anche in altre parti dell'Umbria in questo caso per i primi d'Italia si domandava spesso e noi puntiamo molto sulla corretta sull'alimentazione parliamo della piramide alimentare quanto e quando consumare alcuni prodotti abbiamo detto che alcuni per abitudine spesso mangiano sempre le stesse cose e mi ricordo lì con il discorso delle dirigenti quando prima si diceva che la colazione cosa può cioè puntare prima colazione fare prima colazione non in macchina a merendina mentre viaggi in macchina ma seduti ti alzi in quarta ora prima cerchiamo di insegnare questo stile di vita e qualcuno non faceva colazione qualcuno ma come mai cosa porti a scuola no ma il problema era che si vergognavano portare il ciambellone fatto in casa incartato con l'alluminio perché quello vicino quindi questo è veramente io dico secondo me noi all'ultimo incontro ma questo è anche culturale se vogliamo io dico mettiamoci in gioco noi che cosa possiamo fare per cambiare questo allora la gente va informata è giusto parlare con i bambini però noi dopo l'ultimo incontro fu lignodo ai primi d'Italia quindi con l'occasione dei secondi Italia Gubbio abbiamo detto noi forse dobbiamo parlare anche con i genitori perché fare questo gioco in cucina quel ciambellone fatto con lui sarà lui contento portare la scuola e mangiarlo e dirà lui al suo compagno dirà questo l'ho fatto io è un po' come un gioco lo costruisci da solo questo è un po' le cose a dire sono talmente tante che mi avviene tremila cose magari saranno altre situazioni vado nello specifico quinto quarto niente noi il vero di mattina saremo presenti all'iniziativa che le ideate del dottor Monacelli come federazione ma la nostra proprio sotto gli arconi faremo delle iniziative il venerdì pomeriggio il sabato due sessioni pomeriggio e domenica mattina e domenica pomeriggio quindi cosa faremo metteremo dei bambini in aula in maniera didattica ma anche giocosa durerà circa tre quarti d'ora spiegheremo loro quello detto fino adesso la corretta sarà l'alimentazione questi prodotti che non sono tutti uguali prodotti che si consumano così come sono esempio la mela piuttosto che la pera invece i prodotti lavorati perché parliamo di hamburger o mini hamburger o polpette è un prodotto lavorato quindi far capire anche da dove vengono questi prodotti quando ci sono le arance se no li vediamo in queste cassette entriamo a negozi non sappiamo mai se le arance ci sono anche agosto sono soltanto a disembre o se le vediamo agosto magari sono degli altri paesi quindi cerchiamo di partire a parlare di questi prodotti vero vero e chiaramente in maniera semplice giocosa e lenta i bambini faranno anche le polpette per capirci chiaro che dopo mezz'ora e loro non sono a scuola se vogliono vedi che si vogliono divertire hanno voglia di sporcarsi le mani e cosa facciamo facciamo queste molte polpette polpette mili hamburger però quando siamo andati lì a a dire che cosa ci mettiamo in queste polpette è chiaro che l'evento e quinto e quarto parliamo di carne allora dice beh la storia è solo carne no c'è il lupo amansito e dice non mi sta bene non voglio le polpette con solo carne allora noi da buoni alimentaristi da buoni consulenti da professionisti abbiamo detto ok diamo retto al lupo perché conviene senso buono e ho detto cosa ci mettiamo proprio i non posso dire non posso dire niente dottor Marcelli non vuole svelare l'opera giusto un flash un flash diciamo che non sarà soltanto carne proprio detto prima faremo assaggiare queste polpette con non solo carne ma quindi metteremo verdure e non dico che tipo non dico come in quale metodo però insomma faremo capire che possono assaggiare questo prodotto e staranno meglio saranno più leggeri possono mangiarne anche più perché io magari scopriranno che è ancora più buono probabilmente dopo si diciamo guarda qui c'era spesso abbiamo fatto di hamburger con il farro no diciamo ma come l'hamburger è carne dopo che l'hanno mangiato però sai che era buono troviamo discorso prima di mangiare io credo che anche da da commerciante che un po' è il nostro mestiere fare i commercianti non è giusto dire mangiate di meno ma mangiare meglio quindi non parliamo di mangiare meno mangiare meglio e quindi con un'attività motore e questo ce lo insegnano i nutrizionisti si può smaltire meglio è chiaro che noi vendiamo loro mangiano e stanno bene quindi un po' questo è il progetto in sintesi ci divertiremo perché i bambini comunque si divertono hanno sua parannazza il suo bel cappellino riportano contenti poi oggi fare lo chef è diventato quasi uno status symbol sì perché visto anche quello che vediamo in tv quindi per noi comunque è una bella esperienza e loro si ricordano e anche per tante attività alimentari di gubbio macellerie è una riscoperta delle cucinare del buon mangiare prodotti tipici prodotti del territorio quindi veramente per noi è un'iniziativa importante e ci teniamo non solo carne questo è il messaggio non solo carne ma ci sono tanti cereali verdura perché no frutta perché non è giorni fa ho mangiato un aperitivo se possiamo dirlo con frutta e verdura ma forse è molto meglio leggero di una pizzetta piuttosto che non lievitata che alla fine non riesce a mangiare altro perché già ti senti una pesantessa tutto qua prima di chiudere con il dottor Monacelli un flash da diciamo addetta ai lavori e comunque forte anche dell'esperienza dei primi d'Italia questo claim questo slogan secondi d'Italia è a suo modo anche ambizioso può una manifestazione che punta su questi prodotti particolari ambire a diventare col tempo qualcosa di più e quindi emulare anche il successo di partecipazione dei primi d'Italia secondo Samuele Tognacciotti secondo me sì non solo perché l'idea dei secondi d'Italia è stata la mia personale e così vogliamo portare all'antipasto d'Italia al dolce d'Italia quindi i stili di vita quindi spero non solo per questa mia idea una volta visto l'evento quinto quarto ma credo sì quando giorni fa abbiamo fatto conferenza stampo in regione dal presidente del Gale al sindaco di Gubbio e tutti quanti stiamo puntando anche la città proprio di Gubbio si presta tantissimo a questo evento poi c'è curiosità da parte della gente di girare assaggiare conoscere non solo per il bambino ma anche l'adulto quindi noi ci stiamo puntando sia come confe commerci in primis abbiamo messo risorse importanti di tempo e anche economiche per far sì che sia un punto di partenza e speriamo che arrivi e anche più allo stile dei primi noi ci stiamo puntando del resto chi ha saputo prego no mi scusi solo che abbiamo avuto dei contatti già da mesi a questa parte ma parliamo di Roma piuttosto che dalla Campania per venire e dire come faccio per notarmi per le sessioni dei bambini quindi c'è veramente interesse non solo di Gubbio ma anche d'alte regioni d'Italia quindi credo che già sia una buona partenza del resto chi ha trasformato un prosciutto in un violino non potrebbero questo abbiamo fatto una piccola digressione prodomo nostra Guido Monacelli potremmo anche in prospettiva pensare ad un percorso continuativo di momenti proprio anche di comunicazione che guardino ad esempio al prossimo anno Expo abbiamo detto 2015 l'enogastronomia d'eccellenza ma anche un vetrina irripetibile per i prodotti della nostra regione sicuramente io credo che allora il nostro laboratorio laboratorio delle città del benessere sta chiudendo il ventottesimo anno nel ventinovesimo anno appunto abbiamo non solo Expo perché all'interno di Expo dobbiamo ricordare che nel settembre 2015 abbiamo la ridiscussione a New York degli otto obiettivi del millennio dell'ONU e il primo obiettivo è la sconfitta della fame quindi questa panoramica per così dire dell'alimentazione che va dalle carenze fino alla gestione degli eccessi quindi per tornare a una fisiologia quindi benvenga l'idea è una realizzazione di una serie di tappe proprio aspettando Expo 2015 e su questa abbiamo una novità che commenteremo tra breve assolutamente positiva Sì vedremo ovviamente non ci vuole svelare nulla quest'oggi è molto misterioso il dottore ma avremo modo di scoprirlo nelle prossime settimane intanto avremo modo di scoprire da vicino la prima edizione di Quinto Quarto ne abbiamo parlato in questo appuntamento di Linke con una prima parte istituzionale una seconda dedicata più al mondo proprio dell'età come dire più giovanile e anche delle problematiche che in ambito scolastico magari si presentano quotidianamente che suggeriscono proprio dei percorsi più che educativi di abitudine diversa forse educativi per chi è genitore fa il difficile mestiere del genitore e di abitudine diversa per i più piccoli ringrazio gli ospiti ovviamente anche di questa seconda parte le dirigenti dei circoli Francesca Volpi Francesca Pinna e Francesca Lumi grazie per essere stati con noi magari avremo altre occasioni per parlare delle problematiche della scuola che credo non manchino al di là del del tema legato all'alimentazione ovviamente un grazie anche al dottor Guido Monacelli nutrizionista e a Samuele Tognaccioli responsabile regionale di Fida i dettaglianti dell'alimentazione di Confcommercio seguiremo con le nostre telecamere quinto quarto vedremo un pochino tutte le novità e le curiosità di questa nuova format di questa nuova manifestazione che si svolgerà nel fine settimana a Gubbio tra venerdì e domenica con il nostro pubblico ovviamente è tutto grazie link torno alla prossima settimana sempre il mercoledì sera a Gubbio a Gubbio Grazie.